Prendi la tua vera forma. Benvenuto a Newsgrallus. Da quant'è che non mangi, Vito? Non è vero. Per essere qui avrai affrontato dei pericoli. Ma li vale. Grazie. Prego, figurati. Siamo più di 500 ormai. Ma se scegli di essere un guerriero, hai anche un vantaggio. Cioè? Qual è? Che puoi uscire. Gli altri rimangono qua dentro. I guerrieri mantengono la forma umana. Più rimaniamo nel nostro involucro, meno sarà probabile che gli umani e gli altri scruci. Tu aspetta qui, qualcuno ti darà un alloggio. Dimostrati leale e Gravik ti ripagherà. Che c'è là dietro? La vittoria. Qual è il tuo nome? Guerriero. Qual è il tuo scopo? Scrallos. Qual è il tuo sogno? Una casa nella mia pelle. Nell'involucro. Stai per realizzare i tuoi sogni. Fury è in città, G. Zirksu ti accompagna. Porta i soldi a questo indirizzo. Parla con Poprisci, nessun altro. Ti darà due zaini. Portali al rifugio di Mosca, immacolati e intatti. Sei co-prisci? Sei co-prisci? Dici sempre così, ma ce n'è sempre un altro? No. La mamma non sa cosa vuole. Cosa? Come? Perché non... Dammi le... Non posso. Devi solo... Perché? Tu non sai proteggere nessuno. Ah! E li faccio! E guido a tutti. E un po' di di giù. E un po' di giù. E un po' di giù da una... e un po' di giù. Ce l'ho fatta per poco, erano lì ad aspettarmi Ma dovremmo posticipare l'attacco Abbiamo l'esca Ver accettato Non ho accettato, infatti non sono qui Rischio, è questo che hai detto Non farmi aprire quel discorso, Gaia Hai una sola, credo che tu lo sappia L'attacco è in programma domani Non lo so, ha così tante spie sul campo Saranno cento almeno Molte delle identità sono mantenute segrete anche a noi Era di te, lo sai, Pere Domani ci saranno tre corrieri, compresa me Tutti posizionati intorno a Bossei Geninie Segnerò gli zaini con spray a infrarossi Tutti posizionati intorno a Bossei Geninie